Perché l'importanza di questa mostra? L'importanza di questa mostra è perché sono due grandissimi artisti locali e la Fondazione, essendo un po' per natura mecenate, ha creato questa struttura dove poter dare vetrina, luce, visione a questi due grandissimi artisti. E questo è sicuramente anche uno dei ruoli della Fondazione.